nel settore dell'automotive, quindi a lei la parola per concludere questo panel. Grazie Presidente. Ringrazio di questa domanda perché siamo in casa di Alice e vanno riconosciute determinate cose. Io credo di ricordare che due anni fa un convegno di Alice a Verona, io ebbi modo pubblicamente di lodare l'ostinata convinzione di un terminalista allora in grave crisi, era l'epoca Covid. Questo terminalista investì, progettò e realizzò e collaudò un troncone ferroviario all'interno. Qui è presente la General Manager di quel terminal. Un troncone ferroviario all'interno del proprio terminal. Bene, nel 2022 questo terminalista ha movimentato 243 mila autoveicoli nel terminal e noi abbiamo risposte concrete da parte del concessionario terminalista e della Grimaldi, del gruppo Grimaldi su futuri investimenti, nuovi traffici. Io questo lo devo riconoscere. Nel riconoscere questo merito e questa ostinazione del concessionario allora in grave crisi, noi abbiamo destinato certo pochi milioni di euro, 7, per rifare gli accosti nord, che sono quelli in concessione al terminal Automar, per l'ordinato svolgimento dei loro accosti, anche per ricevere nuove navi di Grimaldi, nuove classi di navi evidentemente. Vengo alla tua domanda perché non me ne sono dimenticato, la destinazione funzionale di porti ancillari della Calabria potrebbe sembrare un problema irrisolvibile, irrisoluto, perché l'attenzione è tutta su Gioia Tauro, è il nostro hub, è il porto leader, Corigliano, Crotone. Vedete, Corigliano è un porto coevo a Gioia Tauro, non ha mai ricevuto una nave mercantile, mai. È l'ormeggio di 45 pescherecci, la più grande significativa flotta marineria da pesca calabrese, Corigliano Calabro, Crotone e Vibo Valencia Marina dall'istituzione dell'autorità di sistema portuale. Noi stiamo compilando e completando il documento di pianificazione strategica di sistema, noi daremo nuove destinazioni funzionali e naturalmente non possiamo escludere una nuova funzione industriale dei porti di Corigliano e di Crotone e di Vibo Valencia Marina. Questa sarà una soluzione innovativa laddove grandi compagnie, grandi industrie hanno chiesto in concessione gli spazi di banchina di questi porti. Grazie, grazie Presidente. Io avrei voluto fare un secondo giro ma purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo la...